La vede questa apertura qui? Sì. L'ha creata il terremoto. Adesso è un passaggio di collegamento. Scendo nel canyon. È profondo almeno 60 metri. Sam. Qualcosa mi è morso. Sam, cosa riesci a vedere laggiù? Oh mio Dio. Sam! Sembra che il corpo sia in acqua da settimane. Voglio sapere che diavolo ci fa quella cosa nel mio lago. Quello è un piranha. Questa specie di piranha. Si è estinta due milioni di anni fa. Dobbiamo chiudere il lago. Siamo noi due e ventimila ragazzi. Fai i tuoi calcoli. Bomba! Togliti tutto! Lo sceriffo ha dichiarato lo stato d'emergenza. Tranquillo, di birre ne abbiamo ancora! Il piranha caccia in branco. Il primo morso provoca il sangue. Il sangue richiama il branco. Totti fuori! No! 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 Piranha. Grazie a tutti.